Salve ragazzi, allora, aspettiamo questa grande sfida con l'Inter, sabato c'è il big match, vedremo un po' che Juve sarà dopo la sconfitta interna contro Napoli, vediamo un po' che Juve sarà, che Juventus sarà. Voglio tornare un attimo indietro alla partita di ieri da Bayern Real Madrid, che ha vinto a Real Madrid, allora, per far capire a molti che considerano la Juve inferiore a queste squadre, cioè noi veniamo dopo Bayern, Real, Barcellona, poche altre non lo so, insomma, un po' di squadre veniamo noi siamo inferiori, non è un cazzo, la Juve non è inferiore manco per niente a queste squadre, la partita di ieri l'ha dimostrato contro il Bayern Monaco, che ha dimostrato che la Juventus non è inferiore a queste squadre, persa una partita, buttata una partita, una partita buttata via, una qualificazione buttata via per colpa di un allenatore, per colpa dell'allenatore, certo, come ho detto a 30 minuti dalla fine, vinci 3-0, ti sei messo a riposare, ti sei riposato, hai acquisito un risultato alla pari con il Real Madrid, tu che fai, ti riposi per arrivare ai supplementari, invece di continuare ad attaccare, cercare di impostare il tuo gioco, che non abbiamo, un gioco non abbiamo, ma in quel momento lo avevamo perché eravamo costretti, a essere ancora costretti a cercare di fare almeno un gol e loro ne devono fare due, no, siamo usciti per negligenza di un allenatore che non capisce il cazzo, questo è assodato perché la squadra, come dimostrata, ce l'ha questa allenatore, ha una squadra di buoni giocatori, ottimi giocatori, che possono giocarsela alla pari, alla pari con tutti, con tutti, con tutti, questo lo ribadisco, colpa sua, se abbiamo fatto delle figure, abbiamo perso, come ho detto, contro l'altro anno 4-1, colpa sua, abbiamo perso contro il Bayern Monaco, 2-2 in casa, 2-0 vincevamo noi e poi siamo usciti 4-2 supplementari, colpa sua, con il Barcellona alla finale, uguale, colpa sua, tempo è colpa sua perché ha un atteggiamento che cerca da sfruttare le occasioni o magari le sculate e lui è così, purtroppo, questo ancora tanti non l'hanno capito, purtroppo non l'hanno capito, loro continuano a ribadire questi tifosetti del cazzo, o magari chi non è juventino o magari è stata in altre sponde, ah, 6 scudetti vinti, 2 Champions League, 2 finali avete fatto con Allegri, poi 4 finali di Coppa Italia, questa è la quarta, veramente, però non dici che la società, la Juve, a questo allenatore gli ha comprato un sacco di giocatori, ha una panchina lunghissima e tanti giocatori forti, non lo dico, questo non lo dico, gli altri allenatori, tu dovresti riavere del Neri, del Neri c'aveva questi giocatori, Ferrara non aveva questi giocatori, Conte non aveva questi giocatori, non ce ne aveva, aveva solo 11 titolari, punto, e Conte riuscì a fare il miracolo, perché era tanto che dei miracoli non se ne vedevano, ma non aveva questi giocatori, non avevano questi giocatori questi allenatori, non ce ne vedevano, perciò di che stavo a parlare, allenatori che esprimono un calcio migliore di questo qua, di questo personaggio qua, migliori, migliori, e quando gli ho detto con il Napoli, ho detto bisogna stare attenti, perché non ce la portiamo da casa questa partita, non ce la portiamo da casa, e avevo ragione, ho ragione, ho avuto ragione, perché sapevo che questo allenatore sarebbe accontentato dello 0-0, del pareggio, lui puntava al pareggio, come ho detto, perché questo qui fa calcoli senza losse, perché lui si presume di avere grandi giocatori che gli risolvono sempre la partita a culo, con un giocato, con qualcosa, un'invenzione, sempre la solita scuola del cazzo, ma Kulovic abbiamo constatato che è sparito, sta in infermeria, Kulovic, per questo non riesce più, perde con il Napoli in casa, pareggia con il cotone, pareggia con la spalla, insomma, partite sempre pessime, pessime, prestazioni pessime, e che cosa vogliamo parlare? Ancora vogliamo parlare, ancora mi è stata rompercazzo con queste due finali della Champions League, sono trofei o no le finali, sono trofei sì o no? Rispondi a sta domanda, sono trofei o no le finali della Champions League? Testa di cazzo, non solo trofei, ok? Vincere l'Italia, come ho detto, con una squadra che ha un arsenale di giocatori, ok? A differenza di altre società, di altre squadre che giocano nel campione italiano, che non hanno quest'arsenale di giocatori, è normale che hai molte più possibilità di vincere, molte più possibilità, perché se si fa male quello, se è fortuna quello, insomma, o viene squalificato, hai sempre un sacco di cambi all'altezza dei titolari, molte squadre non li hanno, e quando queste squadre, tipo la Roma, tipo il Napoli, anche l'Inter, hanno, manca qualcuno di questi, vanno in palla, non vanno più, non funzionano più, non funzionano, non funzionano, la Juve invece ha giocatori che può far funzionare sempre, ok? Perciò, queste persone che parlo sempre, che gli danno il lode a questo grande allenatore, che io non gli do manco per cazzo, non gli do manco per cazzo queste lode, perché non se le merita, perché un allenatore competente, con una squadra del genere, minimo due centri league, l'avremmo vinto a noi, due, sicuro l'avremmo vinto, perché il passaggio con il Bayern Monaco, un altro allenatore, se fosse stato al posto di Asciuga, saremmo arrivati in fila quell'anno se poteva vincere tranquillamente, perché il Bayern Monaco è la squadra più forte, uno, e poi l'anno dopo, questa è la finale con Cardiff, con Real Madrid, si è dimostrato che Real Madrid è una grande squadra, ma a livello nostro, perciò noi un primo tempo, un buon primo tempo a Cardiff, secondo tempo, pessimo, pessimo, per 40 minuti la Juve è sparita proprio letteralmente a chi l'ha vista stava, ne manca la trovava, non si è trovata più la Juve, per colpa di chi? Di un allenatore che non dà motivazioni, non dà quelle motivazioni, capito? Quella verve ai giocatori, regà, capito come? Dagli, non la dà, lui calma, calma e tranquilli, come acquisisce un risultato, va in vantaggio su 1-0, come nata sera, come ho detto, la partita del Liverpool, che tanti mi hanno criticato, però ha giocato contro i difensori, non significa un cazzo, è la mentalità della squadra che affrontava, io parlavo del Liverpool, non dalla Roma, io ho detto, grande partita del Liverpool in casa, continuavano a queste calcio, continuano ad attaccare, però sempre scuse trovo, però ha visto che la Roma giocava in tre, giocava in due, giocava in mezzo, come giocava, giocava, l'impostazione che dà l'allenatore, poi la mentalità è quella che conta, è la mentalità, ma se tu non capisci un cazzo, non te la sto a spiegare, perché tanto non capisci un cazzo lo stesso, perché scrivi solo minchiate, la mentalità è quello che un allenatore impone un tipo di mentalità, un concetto di gioco, cosa che noi non abbiamo, la Roma è stata sul cazzata, sul gioco, è stata sul cazzata, sul gioco, perché è una squadra che gioca molto in attacco, è nata in bambola la Roma, come ha cominciato a spingere più avanti, la Roma ci ha capito un cazzo, ha preso cinque gol, ne poteva più, ne poteva più, ne poteva prendere, ok? Perciò è la questione di un allenatore che dà delle impostazioni, 4-0, 5-0, continua, o magari se non riesce a segnare, però continua ad attaccare, puoi rischiare pure di prendere i gol, tanti mi dicono, ah io preferisco giocare male, però vinci, ma dove sta scritto che se giochi male vinci? Dove cazzo sta scritto? E dove sta scritto se non giochi bene non puoi vinci? Dove sta scritto? È meglio vedere una partita del merda e vinci o vedere una partita che vinci e giochi alla grande? Quale è meglio? Quella che giochi del merda o quella che giochi alla grande? Tanti mi fanno il paragono del Napoli, eh, ve l'ha visto il Napoli, gioca bene, però dal secondo o sta così e sta cos'è? Il Napoli non c'ha tutta la rosa che ha la Juve, testa di cazzo, testa di cazzo, tu sei una testa di cazzo, te lo devo dire, tu sei una testa di cazzo, perché tu non capisci un cazzo? Non ha la stessa rosa, per questo il Napoli, anzi non solo il Napoli con questi giocatori che ha, e l'allora che ha, fa miracoli il Napoli, ok? Fa miracoli, dai a Eliassarri i giocatori della Juve, la Juve stava a 150 punti, non perdeva una partita di campionato, questa Juve con Sarri, una di campionato non la perdeva, e vinceva pure la Champions League a spada tratta, con questi giocatori che ha, Sarri, se gli dava questi giocatori della Juve a Sarri, capito? Testa di cazzo, perché Sarri ha un gioco, fa un gioco, però non ha quella rosa che lo completa, ok? Però se non capisci questo, rimane una testa di cazzo, ok? Ecco, perciò è inutile che scrivete minchiate, la Juve vince perché ha giocatori forti, ha una grande rosa, gli altri non riescono a vincere perché hanno la rosa che ha la Juve, questa è la differenza, punto, perché le individualità sono più forti delle altre squadre, la Juve ha individualità più forte delle altre squadre, e questo è il problema, che voi non capite, e un allenatore, un grande allenatore, questa squadra, come ho detto, la farebbe diventare una squadra stellare, però purtroppo ci dobbiamo accontentare sempre di vedere partire di merda, addormisse, incazzasse con un allenatore che non sa far giocare, perché questo è un allenatore per far giocare squadre che lottano per la retrocessione, questo è un allenatore da retrocessione, perché il modo di adottare un gioco è quello di difendere un qualcosa che contro una squadra, non puoi tu attaccare con squadre piccole una squadra grande, devi cercare di contenere, perché se una squadra che non ha doti tecniche della squadra grande attacca, è facile che ne fia 15, e lui ha questa mentalità, perché è un provinciale, e non capisce un cazzo, se invece lui avrebbe una mentalità europea, potrebbe fare molte cose, ma siccome è un ottuso di cervello questo, veramente è un ottuso di cervello, un allenatore ottuso di cervello, e non sa proprio se neanche i schemi di gioco di attacco non li sa fare, si affida alla sorte, al culo, alla punizione, a quello che può capitare, come ho detto, Kulovic è infortunato, e può essere che se non rientra la domenica, sabato, Kulovic, fa dire che lo scudetto se ne va a puttane, per un allenatore incompetente, come ho sempre detto, perciò se gli date ragione, contenti voi, io ho ragione a questo allenatore, non glielo ho mai dato, dal primo giorno che è arrivato, dal primo giorno, non glielo ho mai dato, perché è un allenatore, che può allenare solamente squadre, che lottano per la retrocessione, stop, vabbè, domenica, sabato sera, vedremo che partita sarà, comunque come questa, come quella di Napoli, non ce la portavo da casa, non ce la portavo da casa, state tranquilli, e sto convinto che la Io non vince a Milano, sono convinto che non vince, poi può essere pure, se trova la botta, se rientra Kulovic, tutto può succedere, tutto può succedere, vi saluto ragazzi, e si vediamo alla prossima.